Rispettare l'ambiente per dare valore al nostro mondo. Recuperare, riciclare, rivalorizzare. Calcestruzzi Casale, recupera tutti i materiali provenienti da demolizione o ristrutturazione di abitazioni e fabbricati civili ed industriali. Calcestruzzi Casale SRL, Cervinara, via Cardito 10. Buongiorno a tutti. 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 Bravo, bravo! Fai capire il mio cuore! Bravo! 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 Bravo, bravo! Dio, dove è a te? Dio, dove è a te? Dio! 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 Qual'è? Dio a sinistra! Da zittico, deriamo a sinistra. Dio a sinistra! Grazie a tutti.